Comunque, ultima chicca, quando vi allenate in palestra, quando avete una pausa e spingete i massimi, come faccio cerco di fare io, non riuscite a arrivare al limite, mettete questa canzone. Anto? Ehi Pippo! Tesoro, lo vedi tutto questo? Sì? Lo sai che questo un giorno sarà tutto tuo? Un giorno? Una notte? No, una notte! Tre notti! Tre notti, fantastico! Con Antonella Fiordelisi e Pippo Pelo, vi aspettiamo a Pitti Pizza in... Allora amici, rimanete con me, perché adesso arriva, questa è Antonella Fiordelisi che gioca a bowling, riusciamo a vederla un po' come è lei. Adesso arriva Anita Olivieri che si è fidanzata, eccola qua, spiaggia, vacanza, ecco il fidanzato, lui col cappellino cosiddetto Anita, qui sono insieme, gelato insieme, Poi, foto del giorno, Beatrice Lussi, Perlina, Federico Massaro, i Paoletti, sempre i Paoletti che sono in Africa, Greta Rossetti con la mamma, Antonella Fiordelisi e chi più ne ha più ne metta. Al prossimo video, ciao!